Questo ora è il nostro mondo, il mondo dell'elettrone e del commutatore, la bellezza del barbo. Noi facciamo uso di un servizio che esiste già senza pagare per quello che potrebbe essere a buon prezzo, se non fosse gestito da avidi profittatori. E voi ci chiamate criminali. Noi esploriamo e voi ci chiamate criminali. Noi cerchiamo la conoscenza e voi ci chiamate criminali. Noi esistiamo senza il colore della pelle, senza nazionalità, senza raggiudizzi religiosi. E voi ci chiamate criminali. Voi costruite bombe atomiche, voi fate la guerra, voi uccidete, spergerate, ci mentite e tentate di farci credere e avere il nostro bene. Eppure siamo noi i criminali. Sì, sono criminali. Il mio crimine è la curiosità. Il mio crimine è quello di giudicare la gente in base a quello che pensa e dice, non per come appare. La mia colpa è quello di essere più fermo di voi e per questo non potrete mai perdonarmi. Io sono un hacker e questo è il mio manifesto. Potete fermare questo individuo, ma non potete fermarci tutti. Dopotutto siamo tutti uguali. Il mio crimine è quello di essere più fermo di voi. Il mio crimine è quello di essere più fermo di voi.